parlare del sacerdozio bisogna essere santi perché non è un dono terreno ma un dono del cielo perché gesù ci ha associati ci ha uniti a lui perché nella santa messa quando consacriamo il pane il vino usiamo le sue parole in quel momento questo è il mio corpo questo è il mio sangue versato per voi ecco ci fa diventare tanti lui tanti gesù ecco allora la frase del santo curato dar diceva se noi riuscissimo a capire cos'è il sacerdote moriremmo dalla gioia tanto è grande e allora ecco il sacerdozio è proprio questo amore di dio che ci innalza innalza ai suoi vertici e lo sentiamo con dei doni particolari in modo particolare quando si mette nella preghiera dove non ci sono le persone ecco sembra che abbiamo delle cose personali da raccontare con gesù e in quei momenti lì si potrebbe dire quello che dicevano gli apostoli signore stiamo sempre qui facciamo qui tre tende una per te una per mosè e una per elia perché il tempo finisce e incomincia già l'eternità quindi un grande dono davvero il sacerdozio che davvero in onda il cuore quando riusciamo a venire qualche volta qui davanti a giù eucaristia ecco qui ritrovo tutta la gioia del mio sì che ho detto a gesù e lo rinnovo ogni volta che lo trovo qui nella chiesa anche per me è avvenuta questa chiamata avevo 15 anni stavo già lavorando in una fabbrica erano un cento centinaio di giovani che lavoravano mi ricordo il momento nel quale gesù è venuto e mi ha chiamato nello spirito e io stavo lavorando mi sono fermato cosa sta succedendo dicevo ho capito che era una realtà del cielo che si faceva presente sulla terra e in quel momento sono rimasto un po' perplesso ma ho detto per la prima volta ho detto ma Gesù sei tu cos'è che veramente mi domandi avevo capito che lui non voleva qualcosa ma voleva tutto e dicevo guarda che aiuto già in parrocchia a fare catechismo di più di più sembrava avanti avanti poi finito quel giorno lui è ritornato ancora e quindi continuava da quel momento da quell'incontro ho capito che la mia vita era osservata era chiamata c'era un disegno che partiva dal cielo e che me lo faceva conoscere però io avevo paura e mi ricordo che tre domeniche prima di fare la decisione non andavo a messa non era mai successo mai però andavo alla chiesa poi scappavo giù dall'altra parte così mi passavano questi pensieri una volta due volte tre volte poi quando vedevo le persone che scendevano allora andavo da mia mamma perché era lei in casa lei diceva sei stato a messa non volevo dire proprio la bugia ma poi ho sentito che stavo male a fare questi giochi con Gesù ma molto male dicevo ma perché devo fare allora sono andato a parlare con il vice parroco della mia parrocchia per raccontare quello che stava succedendo dentro di me e lui nel sentirmi si è messo a sorridere ma guardi che è una cosa bella e seria sì sì perché così è capitato anche a me allora mi ha anche tranquillizzato e mi ha detto guarda che io pregherò tanto per te stai attento a tutto quello che lui ti dice quindi mi ha aiutato ogni tanto tornavo occorre in questo caso qualcuno che ti aiuti che ti accompagni che ti illumini su queste cose perché sono cose che non ci sono sulla terra ma vengono giù dal cielo vengono dall'alto quindi mi ricordo anche in quei momenti lì che non andavo più con i miei compagni prima ero io che animavo tutto il gruppo dei miei compagni non mi piaceva più e loro venivano a cercarmi e dice ma stai mica bene sei ammalato dicevo no ma non sei più quello di prima e io non volevo dire cosa stava avvenendo per lì conoscevo bene e dopo un po' di tempo gli ho detto guardate vi racconto sta succedendo qualcosa che anche per me è nuovo e quindi ho detto per me c'è di mezzo Gesù che mi sta preparando a qualcosa di grande che ancora non lo so e loro dicevano ma no fateli passare dalla mente queste cose lasciale stare che noi ci divertiamo insieme e io capivo che non era una cosa bella fare questo avevo anche qualche problema a dire di sì a Gesù perché? perché nella mia famiglia ero l'unico che andava e prendeva la busta del lavoro mio papà era a letto con un infarto che era pericoloso non sapevamo se moriva avevo un fratellino ammalato e c'era mia mamma lei si appoggiava molto su di me e una sera nel tornare con la bicicletta a casa dal lavoro ecco mi ricordo che dicevo dentro di me stasera lo dico anche a mia mamma e lei era là col mio fratellino ammalato che me l'ha dato in braccio lei andava a preparare la cena e a un certo punto ha detto mamma io non lo so ma sicuramente è Gesù che mi sta chiamando come faccio? e lei mi ha detto delle parole che sono ancora scolpite e una donna di fede guarda che a Gesù non si deve mai dire di no ma solo dobbiamo dire sì che pace che mi ha dato quelle parole di mia mamma davvero poi è andata a fare la cena e io lì col mio fratello che lo baciavo perché un angioletto ero ma che bello va dillelo tu a Gesù là in paradiso che sto per dirgli di sì davvero ecco e poi questa è l'altra parte poi bisognava a un certo punto andare avanti allora il mio vice paroco mi ha detto andiamo a parlare con i superiori della diocese in seminario come si fa? e le hanno detto c'è già tutto pronto perché le voci corrono e anche della tua situazione ah sì bene è che dovevo farmi su le maniche e bisognava fare la scuola caspita bevamo a fare io avevo fatto la quinta elementare non avevo più fatto lo sto avevo fatto prima, seconda, terza media in un anno c'era un professore bravo anche durante l'estate mi accompagnava poi finito terza media ho fatto la quarta e quinta ginnasio dove c'era latino, greco da imparare ma mi aiutava il signore io non ce l'avrei fatta se non ce l'avevo quindi venivo a preparare e lui dicevo ogni tanto Gesù guarda che questo lo faccio per te a me non servono, servono a te quindi anche la scuola è andata poi sono entrato nella teologia e lì è stato un dono perché era tutta parola di Dio da leggere, da riflettere, da approfondire a volte mi fermavo su alcune pagine e dicevo che bella queste pagine davvero Gesù le ha scritte duemila anni fa e queste parole sembrano di adesso che mi stai parlando chi mi ama ascolta la mia parola mi ricordo e lì veniva in aiuto devo ascoltare la parola di Gesù ecco la cosa bella davvero che il signore mi ha dato dove dicevo Gesù ma io lascio tutto adesso cosa avrò in cambio e lui attraverso l'Evangelmetto avrai cento volte tanto e la vita è eterna Gesù moltiplica cento volte quello che do e ho sentito che era bello non perdevo ma guadagnavo tutto Gesù le ha scritto Gesù le ha scritto